Eccoci qua, volevo fare i miei complimenti sentiti a Emozionabile.it perché l'emozione non ha confini, è un claim che mi piace in modo particolare. Io ho una scuola di paracautismo, ho 5.000 salti, faccio paracautismo da oltre 20 anni e in molti casi mi sono trovato a lanciarmi assieme a fare un salto in tandem con persone portatrici di Endicab. Beh è stata un'esperienza bellissima per loro, sono sicuro perché me l'hanno detto e veramente gli ho fatto provare la sensazione di volare e si sono emozionati, ma è stata un'esperienza bellissima anche per me perché regalare delle gioie così ti fa veramente sentire per un momento importante e ti fa capire che hai fatto qualcosa di bello. Quindi veramente complimenti per questo portale perché è una bella cosa e speriamo che si diffonda sempre di più. E volevo fare inoltre i miei auguri personali a Gianluca Tassi, perché? Perché spero che riesca veramente a fare questa Dakar 2013, una Dakar molto particolare perché parte proprio a Lima, in Peru, un posto in cui sappiamo che Gianluca ha avuto un grave incidente, quindi sicuramente è un posto per lui che ha un grandissimo valore emozionale. Allora io ti auguro di trovare i fondi necessari per fare la Dakar, ti auguro di portarla a termine nel migliore dei modi, magari vincendo perché no, ma soprattutto emozionandoti perché questo poi che cerchiamo nelle nostre avventure. Ciao a tutti e continuate così.